Cioè, questo mi sembra un pochino... Non ho capito, scusami. Nel senso, il complimento, no? Non è che non te lo deve fare l'uomo, perché sennò la donna casca come un pero. No, no, il complimento è un'altra cosa. Non penso che tu ti sia innamorata, perché da come parli, sembri quasi invaguita di un nodo di Alessandro. No, forse non hai capito. No, che ti ha portato a... Ma adesso lo stai difendendo? Guarda. No, stai difendendo nessuno. No, 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 no. Forse quella che gioca sei tu, eh. No, amore mio, io sono due mesi qua e io se non trovo il mio equilibrio me ne vado. Forse quella che giochi sei proprio tu, eh. Quella che sta qui a perdere tempo. Io non l'ho trovata ancora, quindi forse quella che giochi... No, perché state cercando le copie giuste. Alessandro ha capito che di fronte ha una ragazza, ok, intelligente... Forse l'hai capito tu quando gli hai lasciato il numero, forse... Aspetta un attimo, posso parlare? Alessandro ha capito di fronte che c'è una ragazza che gioca poco, ok? E quindi non può usarmi per fare i suoi giochini. Tu giochi poco, forse giochi più di me, guarda. È più facile, forse... Con Cristina giocare e allungare il brodo, perché a voi due dovete allungare il brodo. E mi piace, non mi piace, non c'è, non c'è, non c'è la attrazione. Non devo allungare nessun brodo. Gi这, non c'è tutto. Grazie a tutti